E' sabato notte e un uomo di 56 anni spara piombini e scaglia sassi contro i passanti dalla terrazza della sua villetta. Siamo a Biceglie. I militari sono chiamati da residenti della zona periferica e appena arrivati hanno trovato una situazione grave. L'uomo, in questione, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha dato segni di escandescenza, scagliando sassi sui passanti e sparando con un fucile dei piombini metallici. Nel momento in cui i carabinieri hanno cercato di disarmarlo, l'uomo ha reagito, colpendo il militare e ferendolo. Nel proseguo delle indagini, i carabinieri hanno scoperto che il malintenzionato era munito di tre coltelli, un fucile ad aria compressa e un modico quantitativo di stupefacenti. Subito arrestato, l'uomo è stato trattenuto nella tenenza dei carabinieri di Biceglie, prima di essere trasferito all'ospedale per gli accertamenti del caso e quindi tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.